Ho davvero incontrato Marco Mengoni? Lo scopriremo alla fine di questo video. Bentrovati, io sono Alvise Salerno, benvenuti sul mio canale. Prima di cominciare vi invito a lasciare un like a questo video, a seguire il mio canale perché pubblichiamo sempre dei nuovi contenuti legati al mondo della musica, al mondo degli eventi e quindi se non volete perdere nulla, qui sotto c'è il bottone per seguire il canale. Questo video viene fatto per raccontare quella che è stata la serata organizzata in collaborazione da S Magazine, Sony Music e La Feltrinelli dedicata a Marco Mengoni, a questo primo incontro che doveva tenersi il 12 gennaio e che invece poi è stato posticipato al 26 di febbraio. La serata di ieri, perché per chi sta vedendo questo video io sto registrando il 27 febbraio, a distanza di poche ore da quello che è stato l'evento organizzato da S Magazine, è stata una serata anche molto piacevole dove Marco Mengoni si è esibito, ha realizzato un piccolo live con tre canzoni e prima di questo live ha anche parlato con Antonio Di Chele Antonio Di Chele che è il co-founder di S Magazine nonché anche colui che è entrato nel vivo delle polemiche nelle ultime settimane per la querelle legata all'intervista con Fedez un'intervista che tra l'altro potete trovare qui su YouTube un'intervista che ha lasciato uno strascico di polemiche che ancora oggi, a distanza di molte settimane, fanno discutere questa con Marco Mengoni è stata un'intervista molto particolare Marco ha parlato di temi profondi, ha analizzato quelli che sono stati gli ultimi due anni della sua vita post-pandemia anche quindi parliamo degli ultimi mesi un Marco Mengoni molto provato da quello che è successo lo ha anche detto apertamente lui sta facendo un vero e proprio percorso non ha specificato se si tratta di un percorso che sta facendo con una psicologa o meno però è facilmente intuibile che qualcosa non vada in questo momento della sua vita privata nonostante questo però ha rassicurato tutti dicendo che quando si trova su un palcoscenico e sente l'applauso del pubblico tutto torna alla normalità nella sua vita, nelle sue esibizioni e di conseguenza c'è tanto tanto da fare, tanto da vedere, tanto da ascoltare perché poi si è parlato anche di quelli che sono i suoi album futuri ma bando alle chiacchiere è arrivato il momento di ascoltare dei brevi estratti sono davvero brevi, sono pochissimi secondi di ogni macro argomento che Antonio Di Chele proponeva a Marco Mengoni che ha proposto nel corso della serata e poi dai macro argomenti si è passati un po' a analizzare quella che è stata la sottotraccia per ogni singolo argomento, per ogni singola foto perché poi quello che è stato fatto da Antonio Di Chele ve lo spiego in pochi secondi, dopo vi lascio ai video è stato cercare di pensare a come sarebbe un viaggio realizzato con Marco Mengoni un viaggio chiaramente metaforico, con varie fermate tra queste fermate ci sono Sam Cooke grandissimo e storico artista che ha contagiato e influenzato Marco Mengoni anche nella realizzazione di questo suo ultimo album Materia Terra ma c'è stato anche spazio per una fermata dedicata a Stromè che nelle sue canzoni parla della sua condizione attuale che non è una condizione dal punto di vista psicologico positiva e in qualche modo Marco Mengoni ha fatto capire che è anche una condizione che lo accomuna all'artista francese ci sono state anche altre fermate, la sua infanzia lo stesso album Materia Terra, che cosa rappresenta per lui? vi lascio a questo brevissimo racconto, a questa brevissima sintesi appunto di questa serata dedicata a Marco Mengoni da S Magazine e la Feltrinelli al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ci vediamo dopo per le conclusioni finali la cosa più emozionante è stata entrare all'interno del teatro cosa che non facevo da anni, è prendere il biglietto non vedevo un biglietto così da due anni, sono quasi quasi emozionato grazie grazie questo è giusto grazie 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 a tutti grazie 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 Alcune volte mi capita di ritornare ad essere un animale e quindi a farsi che l'istinto faccia da padrone. Io credo che la seconda cosa che faccio quando ti sveglio è questa. Oggi io vado in aeroporto. Prendo il primo aereo che parte e che va in una destinazione più lontana possibile e me ne vado. La cosa del chiedere aiuto o no? Benissimo, mi chiamo un po' chiedere aiuto e è assolutamente interessante. Per diretti questa cosa, quanto è difficile riconoscere i propri errori? Tu sei grato di riconoscere? Io ci metto sempre io? No. Io sono, come dicevo prima, uno che si analizza molto. Sì, sì. Tutto il Sanremo del 2013. Finalmente. Dopo un po' di anni. Perché secondo me c'è qualcosa che è legato a Sanremo che è la pressione che si mette da un musicista o un cantante nel arrivare sul palco. Grazie. 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 Quindi quando comunque vedi Sanremo che riprende il suo potere, che diventa un programma seguito da tantissimi italiani, bomba di mia cucina. È giusto. Perché è così. L'arte è troppo bella per arrivare seconda. Non che ci sia un primo in secondo. Però a me ho vari merito. Cioè, ma solo perché girano delle tariffe diverse o dei soldi, dei denari diversi in proporzione, cioè, vai, non è giusto. Poi, 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 poi divento polemico, ma è un po' la chiave di questi anni. Cioè, è quella chiave che ha permesso a me di aprire delle porte e superare quel muro e quell'ostacolo. come se ogni canzone fosse una porta. Grazie. Grazie. Buona volta a tutti. Come promesso, erano pochi secondi, pochi estratti e, tra poco, ascolteremo, anche degli estratti dei live. Del live che ha realizzato Marco Mengoni, poi, per salutare il pubblico. Tre canzoni, una più bella dell'altra. Due estratte da Materia Terra, un'altra, invece, una cover di un pezzo davvero storico. Noi ne ascolteremo soltanto quelle di Materia Terra. Conclusioni finali di quello che è successo. Beh, dopo quello che è stata l'intervista, dopo quella che è stata l'intervista realizzata da Antonio Di Chiele a Fedez, non ci si aspettava, e questo lo dico senza problemi, senza retorica, non ci si aspettava che la casa discografica di appartenenza di Marco Mengoni, cioè la Sony Music, riproponesse lo stesso identico format con un altro dei suoi artisti, soprattutto se parliamo di un artista come Marco Mengoni, quindi un ultra big della musica italiana. Invece così è stato. Si è capito, insomma, nel corso della serata che Marco Mengoni e Antonio Di Chiele si conoscano da tanto tempo e si stimino e si apprezzino. Però è anche vero che quando poi c'è stata l'occasione di incontrare Marco Mengoni, una fan ha fatto una domanda, un'affermazione anche abbastanza lampante, dedicata proprio al corso della serata, e la risposta di Mengoni è stata eloquente. Un po' a gesti, un po' a parole, anche se non si sente benissimo. Lo vedrete dopo il live. Al di là di questo, la verità bisogna dirla, le domande erano anche molto sensate in tante occasioni, e Marco Mengoni ha avuto anche modo di, con queste domande, cercare di ampliare quelli che erano i concetti che venivano trattati per ogni macro argomento, come vi spiegavo prima, all'interno di questo metaforico viaggio. E poi lo stesso Mengoni passava all'analisi di ogni singola sottotraccia. È pur vero che magari si deve seguire una scaletta, quindi Antonio Di Chele, che non è uno stupido e sicuramente non è uno sprovveduto all'interno di questo mestiere, sapeva di avere i tempi contati e di conseguenza non ha avuto modo di approfondire determinati argomenti. Insomma, le vedute possono essere tante. Chiudiamo l'argomento dedicato alla serata realizzata per Marco Mengoni e con Marco Mengoni e dedicato a Materia Terra, il suo ultimo album, dicendo anche che tra le sue risposte c'è stata quella legata al futuro. Ha confermato che San Siro si farà, quindi ottima notizia questa. Ha confermato che ci saranno due album in uscita, ma che per quanto le idee siano abbastanza chiare su quello che bisogna realizzare, è pur vero che il secondo album, quello che teoricamente dovrebbe uscire nel 2023, ma a questo punto diventa un punto interrogativo grande, enorme, perché le parole di Mengoni sono state lampanti. Il secondo album c'è, ma è stato rivisto dopo l'uscita di Materia Terra, quindi ci sono delle lavorazioni in corso e si dovrà aspettare probabilmente più del dovuto, ma per bocca stessa di Marco Mengoni non tanto più del dovuto, quindi staremo a vedere quanto tempo ci sarà da aspettare. E poi ci sarà un terzo album che lo stesso Mengoni ha detto avere già pronto in testa, ma che effettivamente deve essere nella concretezza registrato, quindi per quello ci vorranno ancora degli anni. Nel frattempo però godiamoci Materia Terra. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio, grazie per aver visto questo video. Ripeto ancora una volta che se volete continuare ad essere aggiornati, volete continuare a vedere i contenuti legati al mondo della musica, al mondo dei live e alla vita degli artisti italiani, continuate a seguire il mio canale. Mettete un bel like se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici se volete vedere quello che è successo nel corso di questa serata e noi ci vediamo alla prossima occasione. Vi lascio con il live di Marco Mengoni. Ciao! Comunque abbiamo parlato di cambiamenti, di perdono, di incertezza, di perdono, di incertezza, di perdono. Dubbi di perplessità, di felicità, di crescita. Potrò che cantare questa canzone. Vieni di riprovare, ma non di rinunciare, perché di cause perse lo sai che sono un campione. Se questo nostro amore avesse già un finale. Ma se tutte le paure che nel mondo fanno male, scivolassero davvero dalle mie spalle altrove. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei. Perché solo nel perdono cambiano. Ancora, mentre volo tu svali, ridi mentre penso a fuori, non mi dareai i nostri figli. Vieni, potremmo essere in questo, però invece ancora scherzi. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei. Perché solo nel frasco non cambia l'amore. Forse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre le stesse. Forse l'ultima notte che avevo, sai, io con delle altre le stesse. Forse l'ultima notte che avevo, sai, io con tutte le altre le stesse. Difendimi dai miei inverni, da tutti i dubbi che erano uno, dal mondo che mi aspetta fuori, da delle incertezze, dai miei stessi errori, che puntualmente li farò. Difendimi dai miei pensieri, che tornano ogni volta qui, da quell'idea superficiale che da un lato è me, dall'altro lato è male, ma in fondo non è mai così. E insegnami a fluire come le onde che si infammono continuamente in fondo al dolce niente. Ed anche quando sembro in grado di scalare il mondo, almeno tu difendi le insicurezze. Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l'anima, che questa notte, questa lunga notte senza fine, tutto cambia. Invece tu illumini sopra ogni nulla, che il sole esiste anche in fondo una lacrima, e non può fare male, male, mai, non ti fa male, mai. Scusate, fatemi fare la foto un attimo. Per piacere! Grazie Marco! Ciao Marco! 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 Quello di Sanremo, quello di Sanremo che non ti abbiamo dato, perché non ci l'hanno passato! Marco! Ciao! Ciao! Grande! Saluto! Marco! Marco! Marco!